narcisismo e faccende amorose dovete sapere che gli amanti i quali passano la vita insieme non sanno dire che cosa vogliono l'uno dall'altro come dice platone nel simposio non si può certo credere che solo per il commercio dei piaceri carnali gli amanti provano una passione così ardente da stare insieme tutta la vita e quindi appare evidente che l'anima di ciascun amante vuole altra cosa che non è capace di dire e perciò esprime questa cosa con vaghi presaggi come divinando da un fondo enigmatico e buio per la psicanalisi l'amore che cos'è è la capacità di riconoscere in un'altra persona qualcosa di sé qualcosa di sé quindi ne consegue che la relazione con l'altro è il modo migliore che noi abbiamo di diventare consapevoli di ciò che siamo il tipo di legame che possiamo stabilire con l'altro è tra i più forti che ci siano in natura e permette di esprimere alla massima potenza la nostra personalità ma questo legame allo stesso tempo può anche trasformarsi in una gabbia che ci impedisce di vivere liberamente a causa a causa della paura di perdere il nostro oggetto d'amore torniamo alla filosofia la cosa più difficile da trovare nei legami amorosi sapete qual è? è l'amore stesso uomini e donne cercano nell'altro cercano nel tu il proprio io e cercando nella relazione questo qualcosa cercano non il rapporto quanto come accennavo prima cercano la possibilità di realizzare il proprio sé la propria parte profonda il proprio inconscio nella relazione d'amore ciò che si cerca non è l'altro in senso letterale ma attraverso l'altro si cerca la realizzazione di sé ecco perché da questo punto di vista l'amore diventa la misura del senso della vita la misura di tutte le cose e gli individui che vivono questa dimensione affettiva rifiutano la razionalità rifiutano il calcolo rompono lo schema ecco perché emerge l'inconscio perché si apre un guscio narcisistico l'amore non a caso è instabile è mutevole ha a che fare con la costruzione e la distruzione dell'altro costruzione e distruzione avvengono insieme così come esaltazione desolazione realizzazione di sé perdita dei propri confini perdita di sé del proprio io l'io si apre si apre attraverso l'irrazionalità e l'unico rifugio che salva l'individuo dalle convenzioni e dagli schemi e dalle gabbie è proprio questo potente sentimento infatti 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 quando l'identità si chiude quando l'identità di ciascuno di noi si involge allora noi possiamo scardinare questa chiusura attraverso l'esposizione all'altro che è anche una espropriazione della nostra soggettività siamo trascinati oltre la nostra identità e ci concediamo ci concediamo questo trascinamento perché solo l'altro può liberarci dal peso di una soggettività che non sa cosa fare di sé stessa questa è la verità e allora ci concediamo questo trascinamento possiamo dire che l'amore non è una cosa tranquilla l'amore non può essere delicatezza non può essere conforto né confidenza come direbbe Galimberti l'amore è in naufragio perché è violazione dell'integrità di un individuo è uscita dal suo io apertura del guscio narcisistico vi rimando ad una playlist dedicata a questi temi del mio canale youtube Roberto Ruga psicoterapeuta inoltre vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata per richiedere una consulenza dovete scrivere un messaggio su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza? specificando nome e cognome e i vostri orari preferiti inoltre vi ricordo che ho scritto 4 libri che si trovano e possono essere ordinati solo attraverso Amazon buona giornata